Il Forum dei Giovani di Montecorvino-Rovella organizza un corteo silenzioso per Giampiero De Libovi, che vuole testimoniare l'unità di una comunità che davanti a un'azione senza cuore risponde col cuore, col coraggio di chi sceglie di lottare contro la paura. L'iniziativa Io sto con Giampiero in programma domani alle ore 19 e avrà luogo da Via Cavour a Piazza Belvedere. Il silenzio è la forma più alta della parola, comprenderlo è la forma più alta dell'essere umano. Noi per Giampiero vogliamo in silenzio far battere un unico cuore. Il corteo partirà in modo silenzioso domani alle ore 19 presso il convento dei Frati Capuccini Santa Maria degli Angeli, verso Piazza Belvedere dove saranno osservati tre minuti di silenzio, al fine dei quali ci sarà un intervento di padre Gianfranco.